La fede e la medicina in tempo di pandemia è stato questo il tema di una giornata di riflessione e condivisione organizzata dall'amministrazione comunale di Altomonte. La prima parte della giornata dedicata alle ricadute spirituali in tempo di pandemia si è svolta nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, dove è stata ufficiata una solenne celebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, in onore di San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati era un medico, un cittadino responsabile, che non ha mai diviso nella sua esistenza la fede dalla scienza, la fede dalla medicina, la fede dal suo lavoro. Anzi, lui ha portato Cristo nel suo essere medico e ha trovato negli ammalati che incontrava la carne viva di Cristo. E lui aveva capito che l'ammalato è il luogo teologico, per definizione, dove il medico può veramente incontrare Gesù crocifisso. Noi dobbiamo dire grazie a Giuseppe Moscati perché è la testimonianza viva e concreta di come noi non dobbiamo separare la preghiera e la fede dalla vita, ma la fede, la preghiera e la vita sono un tuttulo. Anzi, la liturgia e la fede devono irrorare la nostra vita. La nostra vita, nutrita di parole di Dio, di sacramenti, di liturgia, deve diventare testimonianza concreta per gli altri e con gli altri, soprattutto nella fedeltà alla volontà di Dio che si esprime anche e soprattutto attraverso il Vangelo. Qual è il messaggio di San Giuseppe Moscati? Beh, io ne voglio ricavare due tra i tanti. Il primo, che siamo chiamati tutti alla santità. Ciascuno nella sua scelta di vita, chi come papà, chi come mamma, chi come vescovi, chi come prete, chi come diacono, chi come operatore della comunicazione. Ecco, ciascuno nella propria scelta è chiamato ad essere santo perché il nostro destino non è la morte, ma il nostro destino è la santità. E la santità è possibile per tutti. Anzi, diceva un grande teologo, o la santità o il fallimento della nostra vita. Un altro grande messaggio è che, e quanto soprattutto agli operatori della medicina, agli operatori sanitari, che anche nel mondo della salute si può essere santi. Quando e come? Facendo bene il proprio lavoro di medico, cercando di mettere insieme fede e scienza, cercando soprattutto di capire che l'ammalato non è un peso per il medico, o l'ammalato non deve obbedire ad un budget, ma l'ammalato è una persona e l'ammalato deve essere il centro dell'attenzione e della cura del medico. Abbiamo raccolto durante il lockdown 7.000 firme in tutta Italia per una petizione che abbiamo rivolto alla Santa Sede proclamare San Giuseppe Moscati santo patrono del sistema di emergenza territoriale 118 nazionale. Con grande emozione comunichiamo che il 22 aprile del 2022 la Santa Sede ha approvato, dopo un iter che è durato quasi due anni e mezzo, questa nostra petizione è fondamentalmente ha proclamato San Giuseppe Moscati, patrono del 118, un faro nella notte, una luce per tutti noi, un esempio da seguire, un maestro da ascoltare e soprattutto un compagno di viaggio in questo momento difficilissimo della sanità nazionale e della vita di tutti noi. La giornata di oggi è la seconda giornata che Altomonte dedica a San Giuseppe Moscati e l'ha voluto dedicare, dopo l'esperienza già fatta nel primavera che ha visto qui la presenza del sindaco del paese originale di San Giuseppe Moscati e un convegno svolto sulla sua figura, c'è un secondo passaggio. Abbiamo voluto fare una riflessione tra il rapporto tra fede e medicina nel periodo del Covid. Ci sarà anche un'altra iniziativa più avanti, dopo il periodo natalizio. Oggi abbiamo voluto poi sistemare in maniera definitiva la reliquia che ci è stata donata dalla comunità d'origine di San Giuseppe Moscati nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione. La seconda parte della giornata è stata dedicata ad un approfondimento sul tema Covid-19, quali insegnamenti? Abbiamo combattuto un mostro che non conoscevamo, di cui non conoscevamo la possibilità, diciamo, di faremmo male e che tipologia di patologia potesse insorgere una volta diventati positivi. Per cui è stata veramente un'esperienza che era al di fuori delle nostre conoscenze, anche scientifiche, che ancora oggi va studiata e continua ad essere studiata. Il nostro buon Dio ci ha dato la possibilità di organizzarci. Nella prima ondata di pandemia non c'è stata una grossa quantità di persone che abbiamo avuto in ospedale. La vera pandemia per noi è arrivata ad ottobre del 2020, con la seconda ondata, dove lì sicuramente ci eravamo già ben organizzati. Abbiamo avuto un modo di poter in qualche modo sopperire a quella che era la richiesta, che è stata notevole, con l'ampliamento dei posti letto, con un aggiustamento di quella che era l'approccio al paziente stesso e quindi una maggiore possibilità di aggressività verso il virus, anche da parte nostra. Al termine sono stati consegnati attestati di merito a quanti hanno prestato ad Altomonte la loro preziosa opera dall'inizio della pandemia e in tutti i momenti difficili della zona rossa, fino alle successive sedute di screening, tamponi e vaccinazioni. La comunità, la collettività di Altomonte, ringrazia tutte le persone di Altomonte, ma anche non di Altomonte, le istituzioni, con le quali abbiamo collaborato strettamente nel periodo del Covid, soprattutto nella prima fase, nella fase più critica, nella fase più drammatica, nella fase in cui purtroppo anche Altomonte ha contato alcuni morti. E quindi per noi era un gesto doveroso di ringraziamento e di riconoscimento al lavoro svolto da queste persone, molte delle quali lo hanno fatto a titolo assolutamente di volontariato, e anche per ringraziare tutte le persone che in quel periodo, insieme con il Sindaco, hanno costituito il Comitato di Crisi, che ci ha permesso di gestire nella maniera migliore quella particolare situazione di fronte alla quale ci siamo trovati veramente a mani nude a dover fronteggiare un fenomeno che assolutamente non conoscevamo.